Il Prigioniero del Signore 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 del Signore Il Prigioniero del Signore Il Prigioniero del Prigioniero del Signore Il Prigioniero è il nostro obiettivo È l'obiettivo che Dio si è prefissato per ciascuno di noi E vogliamo desiderare davvero con tutto il nostro cuore di non fermarci in questo cammino, di non sentirci arrivati, di non pensare così, di non aver più bisogno di aprire la Bibbia, la parola di Dio, di passare del tempo in meditazione davanti al Signore, di non aver bisogno di partecipare ai culti, agli incontri di preghiera, agli studi biblici, perché probabilmente forse siamo presi da tante cose di questa vita, ma tutte queste cose sono importanti, necessarie per noi, ed è un grande privilegio che noi possiamo avere libero accesso. Noi diamo per scontate tante cose e abbiamo una libertà che tempia dietro i nostri fratelli che ci hanno preceduti, se la potevano sognare questa libertà. E ci sono dei posti, diceva anche la sorella Bianchina, dove fino a pochissimi anni fa, ma ancora oggi, davvero è quasi impossibile poter avere un luogo, riunirsi liberamente. Ci sono dei divieti, ci sono delle persecuzioni e a volte, a causa di negligenza, di superficialità o forse di motivazioni che non dovrebbero esserci, veniamo meno in questo impegno, in questa chiamata a responsabilità. E questo è un incoraggiamento per noi tutti, a partire da me stesso. È importante, fratelli e sorelle, che noi cresciamo, perché siamo chiamati ad essere di edificazione gli uni per gli altri. E per poter crescere, natura stessa ci insegna che è necessario prendere il cibo. E se non leggiamo la parola di Dio, se trascuriamo questo luogo benedetto, se non ci accostiamo a questa fonte, come possiamo pensare di crescere? Il Signore provvede per noi cibo succulento, che viene dalla Sua parola, cibo adatto affinché noi possiamo davvero crescere alla presenza di Dio. Leggo in Gioele, capitolo 2, verso 26. È una promessa che il Signore fa al profeta. Mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore, vostro Dio, che avrà operato per voi in meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogne. Il Signore è colui che ci nutre dal punto di vista spirituale attraverso la Sua parola, perché questo obiettivo è stato fissato per noi, affinché noi raggiungiamo questa perfetta statura di Cristo. E ancora voglio leggere questo verso, Isaia, capitolo 55, verso 2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Perché trascurare la mensa che Dio imbandisce? Perché trascurare questa preziosa parola che serve, è utile, anzi è indispensabile per la nostra crescita e maturazione spirituale? Vogliamo sentire ancora di più questo bisogno. Noi leggiamo alcune storie nella parola di Dio e sicuramente a riguardo di quello che sto dicendo, credo che è ben calzante la storia di Nemia e di come quel popolo si mise a lavoro insieme. Si mise a lavoro perché avevano uno scopo ben preciso, uno scopo comune, quello di edificare. Edificare, edificare tutto ciò che era stato distrutto dall'avversario, dal nemico. C'erano le mura di Gerusalemme da edificare, c'era da edificare l'altare, tra l'altro la prima delle cose che fu edificata. C'era da edificare il Tempio, c'era da ricostruire tutto. E vi leggo questi versi che possano darci l'idea di come è importante che ognuno di noi si senta responsabile, sia per se stesso, ma anche poi in modo comunitario. Nemia 4, 15, 18 e 23. Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto. E noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. E ognuno dei costruttori, verso 18, durante il lavoro portava la spada cinta ai fianchi, il trombettiere stava accanto a me. Verso 23. Io poi, i miei fratelli, i miei giovani e gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo, ognuno teneva le armi a portata di mano. Credo che, in senso spirituale, questa attitudine dovrebbe appartenerci, dovremmo farla nostra. Dio benedisse tanto l'epoca di Nemia, quella generazione. Riuscirono a ricostruire, anche avendo forze davvero misere, anche se non avevano le risorse per poter costruire tutta quell'opera. Anche se, purtroppo, insediati in un modo ovviamente forte da quei nemici che volevano distrarli, che volevano scoraggiarli. Abbiamo un nemico che vuole scoraggiare le anime nostre, ma abbiamo letto nella parola del Signore che facciamo parte di un corpo. Da Lui tutto il corpo, cioè da Cristo Gesù, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture tra il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Dovremmo qui entrare in un discorso un po' scientifico e considerare, ma noi da quali parti è composto il nostro corpo? Siamo composti da tante piccole particelle e ognuno opera singolarmente, ognuna con la sua forza, mettendo a disposizione tutto se stessi per il corpo. Ciascun membro cerca di collaborare con tutto il resto del corpo. Immaginate voi se solo qualche membra del nostro corpo non collaborasse e allora inizierebbero i problemi. Se l'occhio non facesse la sua parte, se il piede non volesse saperne niente di svolgere la sua funzione, se il cervello perdesse la possibilità di usare qualche arto, qualche anche organo interno, cosa ne sarebbe di noi? Tutto il corpo ne soffrirebbe e ne patirebbe. La necessità della crescita, la necessità dello sviluppo, la necessità che ogni singola parte contribuisca al bene comune. E' un invito questo, fratelli e sorelle, quello di questa mattina, ad assumerci ognuno, chi nel ruolo, nel compito, secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno di noi. Il Signore ci chiama non a fermarci, non a essere superficiali, non a rassegnarci davanti alle difficoltà e ai problemi, a continuare a guardare il nostro Signore Cristo Gesù. Fissiamo il nostro sguardo su di Lui, fratelli e sorelle. Se lo distogliamo da Cristo, saremo prontamente scoraggiati, entreremo in confusione. Quella è la statura perfetta. Dio si vuole usare di ciascuno di noi. E Dio vuole che la nostra vita possa essere di sostegno gli uni per gli altri, di edificazione gli uni per gli altri. Sapete, al tempo di Salomone, quando si costruì quel tempio meraviglioso, glorioso, fu data una disposizione che potrebbe sembrare strana, ma credo che ci serva a noi questa mattina per qualche opportuna riflessione. Sapete, quelle pietre che dovevano essere messe una a fianco all'altra per poter edificare il tempio, per poter costruire questo tempio, appunto, veniva lavorata non all'interno del tempio, ma veniva lavorata nella cava, perché nel tempio non ci doveva essere nessun rumore. E allora queste pietre venivano ben levigate, ben preparate nella cava, singolarmente. Poi venivano prese, già pronte, e venivano portate lì sul posto, nel tempio. Non dovevano più metterci le mani su quelle pietre, ma dovevano solo essere prese e accantonate l'una a fianco all'altra, per poter così innalzare il tempio. Che Dio possa lavorare i nostri cuori. Non solo quando ci riuniamo nel nostro locale di culto, non solo quando ci incontriamo, fratelli e sorelle, ma nelle nostre case. Lasciamoci lavorare. Prendiamoci quel tempo necessario affinché quello scalpello, quel martello della parola di Dio possa lavorare il nostro cuore. La parola di Dio è come il martello che spezza il sasso, è come un fuoco consumante. Che Dio ci dia grazie di poter essere trovati sempre pronti, come al tempo di Nemia, sia per costruire, ma anche per avere pronta la spada. Spiritualmente parlando, noi vogliamo essere non dei demolitori, ma degli edificatori, dei costruttori, affinché Dio, il capo della Chiesa, Ricordiamoci, Cristo è il capo della Chiesa, ne possa trovare gloria e giovamento. Dio ci benedica, amè. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Gloria al nome Tuo, Signore. Alleluia. Gloria a Te, Gesù. Benedetto è il Tuo nome, Signore. Gloria, gloria al Tuo nome, Gesù. Dio è misericordioso, è buono, è pietoso. Dio è colui che si prende cura dell'anima nostra. Gloria al Tuo nome, Gesù, alleluia. Egli lavora ai nostri cuori. L'opera dello Spirito è incessante, continuativa, 24 ore su 24. Gloria al Tuo nome, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Padre Celeste. Grazie, Dio d'amore. Uniscici, Signore. D'una sola mente, d'un solo spirito, in un'unica fede, Signore. In un unico sentimento, Signore. Con il traguardo, l'obiettivo che Tu hai posto davanti a noi. Quello di ritrovarci nel cielo, Signore. Chi prima, chi dopo, Signore. Ma questo è l'obiettivo, Signore. Che Tu hai messo nei nostri cuori. Alleluia. Gloria al Tuo nome, Signore. Aiutaci, Signore. A non scoraggiarci durante questo cammino. Aiutaci, Signore. Gloria al Tuo nome, alleluia. Gloria a Te, Signore. Benedetto il Tuo nome, alleluia. Gloria a Te, Signore. Gloria a Te, Signore. Alleluia. Benedici i nostri cuori, Signore. Grazie a tutti.